E oggi anche a Torino gli indignati si sono riuniti in piazza Castello fortunatamente senza tensioni nelle violenze che ci sono state a Roma, non sono merce di scambio, noi la crisi non la paghiamo, gli esseri umani vengono prima dei profitti, gli slogan scanditi durante il presidio davanti al palazzo della regione, rivendicano il diritto di tutti ad avere casa, lavoro, cibo, salute ed educazione, puntano il dito verso quell'1% che dicono sceglie per tutti. In corteo i manifestanti hanno percorso via Roma e raggiunto la sede della Banca d'Italia in via Arsenale, alla manifestazione hanno partecipato studenti, esponenti del movimento Notav e dei comitati per l'acqua pubblica insieme a molti altri.